Da sabato 15 gennaio a Milano si suda insieme la Costituzione. Avvocati, magistrati e parlamentari insegneranno ai migranti quali sono i valori fondamentali della nostra carta per imparare a conoscere e rispettare diritti ma anche doveri. I nostri diritti camminano sulle gambe dei doveri ed è un passaggio fondamentale questo perché solo ed unicamente mettendo al primo posto i nostri doveri, il nostro impegno, il nostro senso di responsabilità si possono avere dei diritti. A promuovere il corso gratuito che si terrà negli spazi del centro diocesano Schuster di via Sant'Antonio più di 23 associazioni che si occupano di estracomunitari, Unione dei giuristi cattolici e la Cappellania di Santo Stefano. Solidarietà, che è la seconda parola chiave della Costituzione, è anche il senso di questa iniziativa. Un'occasione di incontro per l'Avvocato Garancini è sostanzialmente un servizio perché l'unità deve essere fatta soprattutto sulle persone e sulle regole. Di mettere a disposizione delle conoscenze a delle persone che hanno bisogno di legalità e anche hanno bisogno di sentirsi cittadini di questa Repubblica. Il senso di questo, molto modestamente, è di cominciare a far conoscere l'esistenza della Costituzione e il contenuto della Costituzione. Un'iniziativa a cui dovrebbero partecipare tutti i parlamentari, secondo la senatrice del PD, Emanuela Abaio. È fondamentale far conoscere la nostra carta costituzionale ed è fondamentale che noi parlamentari di tutte le forze politiche siamo presenti per dimostrare a questi cittadini che noi su questi valori ci vogliamo confrontare e vogliamo crescere insieme a loro. Sarebbe interessante riuscire a fare in modo che questa iniziativa si sviluppasse in tutta Italia, proprio quest'anno, che sono i 150 anni dell'Unità d'Italia. Aspettiamo con ansia che sia proprio il legislatore nazionale a recepire questa iniziativa e farla diventare una legge dello Stato italiano.